Da sindaco di Taranto voglio davvero rivoltare Taranto come un calzino. Innanzitutto la vivibilità urbana. Siamo al quartiere Tamburi, via De Vincentis, ci stiamo soffermando da parecchi giorni in quest'area e vi abbiamo mostrato lo scempio in cui versano strade e marciapiedi. Guardate qui cosa c'è, si creano veramente dossi e cunette per così dire con un marciapiede asfaltato per modo di dire con situazioni di assoluta pericolosità. Proprio qui, in questo punto, è caduta una signora. Ascoltiamo le sue parole. Sono caduta, in mezzo alla strada vi ho fatto vedere quello che mi sono fatto. Da quanti anni c'è questa situazione? Sono anni che non fanno niente qua, anni proprio. Prima in Manacorisi si vedeva qualcosa, ma niente. L'ex sindaco Melucci ha fatto solo parole. Parole e sole. Dice di aver seminato la rinascita, mi sa che ha seminato le buche, non la rinascita. Hai detto la cosa giusta, questo è vero. Vogliamo dare ai cittadini di Taranto, agli abitanti del quartiere Tamburi, una realtà diversa, una realtà vivibile. Per questo vi chiedo la fiducia. alla luce di 20 anni di battaglie giornalistiche che sto facendo per l'ambiente e per la vivibilità urbana.